il paese come le pappate non esiste quindi è un paese d'oro e le persone purtroppo quello che ci succede ce lo dobbiamo fare il Natale del Reggio siamo oppure no ma è qua il Natale del Reggio è diventata la piazza della cacca dei carri qui sotto c'è un cimitero di guerra che apparteneva a quella piazza dove c'è scritto parrocchia santa casa allora la c'era la chiesa di Santa Antonina che è stata smessa negli anni 60 e 60 ma questa è la prima chiesa che c'era nel paese che pappate noi abbiamo un monumento dobbiamo vedere questo grado questa è una piazza che va tenuta finita qua c'è cacca dei carri si vede un po' di tutto si vede un po' di tutto il Natale del Reggio il Natale del Reggio